Amiche e amici di Brescia, vi aspettiamo qui al Teatro Sociale. Saremo qui da martedì 6, cioè stasera, fino a domenica 11, con La Corsa dietro il vento. Spettacolo ispirato ai racconti di Buzzati. Spettacolo pieno di tanti colori, sapori, emozionante, commovente, divertente, comico. Vi aspettiamo. Venite, non mancate, perché se mancate noi ce ne accorgiamo. Ciao. Grazie.